Ha chiuso nel segno dell'entusiasmo la rassegna autunno stellato di scena all'istituto alberghiero di Roccaraso, ideata per consentire ai ragazzi di ricevere consigli preziosi dai grandi chef che si sono formati proprio tra i banchi e tra i fornelli di questa scuola. L'ultimo appuntamento della serie con William Zonfa, Stella Michelin, tra l'altro chef del G8 all'Aquila, sua città di origine. Agli studenti ha presentato un personalissimo sandwich di pollo al rosmarino e una chitarra abruzzese rivisitata, ma l'ingrediente più importante per fare bene questo lavoro è un altro, ha detto all'attentissima platea di studenti. Di ricette se ne danno tantissime ma questa penso sia un po' la più difficile. Sicuramente come primo input è la passione, cioè la passione è diciamo quello strumento che ti rende la rinuncia meno pesante, ecco questo forse è importantissimo. Quello che dico loro soprattutto a quest'età che sia un po' vivaci, un po' irrequieti, è quello di vedere molto e tenere un po' chiusa la bocca, cioè parlare un po' meno, ascoltare, ascoltare molto. La manifestazione conferma l'importanza raggiunta dall'alberghiero di Roccaraso e non solo a livello regionale. Grazie ai suoi tre indirizzi, sala, cucina e accoglienza e soprattutto grazie alla presenza del convitto, l'istituto è frequentato da studenti provenienti da tutto il centro sud d'Italia. Non è un caso dunque che i risultati della fondazione Agnelli lo abbiano premiato, ha sottolineato il dirigente scolastico Pino Destavola. Il convitto è la possibilità di vivere un'esperienza tra pari. Se sfogliamo qualche libro di didattica, parliamo di peer education, educazione tra i pari. Il convitto è la possibilità per i ragazzini di vivere sotto la guida di un educatore e abbiamo personale formato per la gestione del convitto, di vivere questa esperienza in modo attento e sorvegliato, tra virgolette. A questo originalissimo Open Day ha partecipato anche il direttore dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo, Antonella Tozza. È rimasta molto colpita dalle tante attività di una scuola che, particolare a fatto secondario, offre concrete opportunità di lavoro, anche mentre si studia per conseguire il diploma. È l'occasione per ribadire che si può attraverso la scuola raggiungere gli obiettivi importanti, si possono ottenere dei riconoscimenti rilevanti, ma che questo percorso debba essere fatto attraverso la scuola, che è una palestra di vita, ma è anche sacrificio, è anche dedizione, è anche cittadinanza vissuta e anche rispetto dell'altro. La lezione di Zonfa coincide con la lezione di cittadinanza che la scuola vuole portare avanti. Grazie a tutti.